ciao a tutti oggi preparerei i biscotti di meliga il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono farina di mais farina di tipo 00 uova amido di mais burro zucchero scorza di limone vanillina e pizzico di sale diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza di limone e lo zucchero lezioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il burro la farina di mais la farina di tipo 00 l'amido di mais le uova la vanillina e il pizzico di sale azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 il composto è pronto trasferiamolo in una sac a poche dotata di beccuccio largo e formiamo i biscotti che posizioneremo su una teglia rivestita con carta da forno posizioniamo i biscotti in frigo per mezz'ora trascorsi il tempo abbiamo ripreso i biscotti dal frigo adesso li andremo a cuocere in forno preriscaldato a 170 gradi per 15 minuti i biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia facciamo presente che questo tipo di impasto durante la cottura tende a schiacciarsi leggermente ma è normale biscotti di melica grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!